Ciao Pippo! Broglione, ciao, come stai? Io sono Trachi! Oh, Trachi, lo so che sei Trachi! E ti vedo bene anche, hai una divisa bellissima! Allora Pippo, tu hai viaggiato tanto e viaggi tuttora tanto, usi la macchina, cosa ne pensi dell'autotrasporto in Italia? Perché ci sono tanti problemi per gli autotrasportatori? Ma perché è un lavoro difficilissimo, è un lavoro molto faticoso, perché stare in fila indiana lì per molte ore ci vuole resistenza, capacità, ci vuole pazienza e io quando li sorpasso, li guardo, li saluto quasi sempre. Devo dire che nei miei confronti c'è anche molta simpatia. Pippo, noi della Federazione Italiana Autotrasportatore ti vogliamo tanto bene, ti ringraziamo per questa tua disponibilità e saremo sempre, sempre sintonizzati sulle tue bellissime trasmissioni. Mi raccomando, non perdere mai la guida. Andiamo a prenderci un caffè. Andiamo. Andiamo.